Ennesima tragedia, ancora sangue sulle strade del Tarantino. Sabato sera poco dopo le 21 ha perso la vita un noto imprenditore del settore vitivinicolo di San Giorgio Ionico, Michele Barulli, di soli 33 anni. L'incidente stradale mortale si è verificato sulla strada che collega il paese di origine della vittima a Pulsano, nei pressi della zona industriale. Barulli si trovava in sella alla sua motocicletta, l'esatta dinamica del sinistro dovrà essere accertata dagli inquirenti. Stando ad una prima ricostruzione ci sarebbe stato un impatto tra la moto condotta dalla vittima ed un'auto. Poi il 33enne sarebbe stato sbalzato sull'asfalto e travolto da un'auto che sopraggiungeva in senso opposto. Barulli è deceduto sul posto, per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri coadiuvati durante l'intervento dai vigili del fuoco del comando provinciale. Barulli è deceduto sul posto di Taranto.